Può dare se hai traccia, può dare se non hai traccia, perché parecchio veniva da lei senza chiamare. È pericoloso perché quando tu abbi la tua porta non conosci quella persona, quella persona non ti ha lasciato una traccia, tu non lo sai cosa vuoi, cosa non vuoi. Puzza la porta, arriva lì, può dare un psicopatico, un che ci dà la vita, come è successo con lei. Era questa la paura più grande di chi conosceva bene Maria De Sousa, la sessantenne uccisa nella palazzina di Via della Robbia ad Arezzo, e invece l'assassino di Maria di tracce ne avrebbe lasciate sia telematiche che biologiche. Dai quattro telefoni che la donna aveva e che sono stati scandagliati dagli inquirenti allo scontrino di un pasto consumato in pizzeria e ancora tracce di sangue e altro materiale biologico. Fondamentale sarà capire l'ora della morte. Il marito sarebbe partito per Grosseto lunedì di prima mattina. Di certo c'è che Maria ha aperto la porta al suo assassino. Non c'erano infatti segni di effrazione nell'abitazione e la scena che gli inquirenti si sono trovati di fronte lascia pensare che prima del delitto si sia consumato un incontro tra la sessantenne e il suo aguzzino. Gli ulteriori reperti che il giorno seguente alla scoperta del corpo hanno raccolto gli agenti della polizia scientifica per la Toscana di Firenze guidati da Paolo Terracciano saranno analizzati nei laboratori fiorentini per accertamenti più approfonditi. Risultati che una volta in mano alla procura di Arezzo permetteranno di capire meglio chi ha ucciso Maria.